Sono molto contento del gol personale, sono molto contento della vittoria della squadra. Abbiamo continuato sulla stessa riga di mercoledì con la Vastese. Era importante, si sa che il campionato è tutt'altra cosa, però abbiamo risposto presente, abbiamo avuto un approccio secondo me eccezionale. Poi ovvio abbiamo fatto un 1-2 così subito, nel primo tempo e la partita l'abbiamo indirizzata nel migliore dei modi. Ci siamo difesi secondo me con molto ordine. Abbiamo portato a casa tre punti che ci danno grossa fiducia per il proseguo. C'è una spiegazione logica a questa maggiore attitudine nel fare punti in trasferta rispetto a casa, almeno in campionato? Io credo che sia una casualità, non credo che ci sia qualcosa in particolare. Da mercoledì che abbiamo cambiato modulo, forse così ci sentiamo un po' più sicuri in fase difensiva, però nello stesso tempo con i quinti riusciamo a essere anche propositivi, a essere offensivi. Quindi vediamo, vediamo un attimo. Continuiamo così e credo che questa sia la strada giusta. Domenica non ci sarà un impegno facile, si torna al Valle Anzuca ma l'avversario sarà l'Aquila. Sì, sappiamo che l'Aquila è una squadra costruita per un campionato di vertice, però non so frasi fatte ma noi veramente guardiamo a noi, pensiamo a noi. Sappiamo di essere un organico forte, dobbiamo continuare ad avere questo atteggiamento, questa voglia, questa fame e penso che con questi aggettivi possiamo riuscire a fare bene con chiunque.